ciao buongiorno oggi voglio parlarvi di un prodotto pazzesco con cui mi son trovata da subito benissimo sapete che quando dico le cose le dico con cognizione di causa dopo averle provate io sono giorni che sto provando questo prodotto e sono davvero entusiasta quindi ora ve ne voglio parlare più nel dettaglio perché può essere davvero un qualcosa che può svoltare la vita di noi camper isti che siamo sempre alla ricerca di energie e di soluzioni appunto per l'energia in camper eccetera ecco qui questa è la nuova delta 2 di eco flow si tratta di una power station ma è davvero incredibile perché ha una potenza in questo piccolo diciamo contenitore ha una potenza pazzesca pesa 12 chili al suo interno ha una batteria a litio un inverter e un regolatore di carica mppt quindi adesso vi mostro un po di cose ve ne parlo in modo più approfondito perché c'è davvero tanto 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 da dire io la sto utilizzando per tutti gli utilizzi quotidiani cercando di evitare di utilizzare l'energia del mio camper quando posso non perché non ne abbia però ci sono delle situazioni in cui purtroppo è necessario avere un qualcosa di riserva e questo qualcosa di riserva può essere proprio questo perché è potente la differenza rispetto ad altri prodotti è che davvero piccolo e super potente perché ci puoi attaccare di tutto di tutto quindi anche in casa potenzialmente avrebbe un ottimo utilizzo in caso di black out quando salta la corrente per ore che non si sa perché insomma allora io ve ne parlo per come la stiamo utilizzando noi che viviamo in camper mi sono venuti in mente altri tantissimi utilizzi che si potrebbero fare di questa power station mi immagino qualcuno che camperizza un van e non vuole diciamo cimentarsi in un impianto elettrico complesso quindi può utilizzare qualcosa di questo tipo per avere tutto quello che gli serve perché qui si possono collegare davvero tantissime cose e ora ve lo faccio vedere allora partiamo dal pannello iniziale qui abbiamo un semplice tasso di accensione si illumina lo schermo dallo schermo io posso vedere la percentuale rimanente della batteria le ore rimanenti di autonomia questo ovviamente è un parametro che varia in base al carico che avrà la batteria e qui ho visualizzato i watt di input quindi in ricarica della batteria e di output quindi in erogazione infine o il simbolino del wifi perché la cosa fighissima di questa power station è che è smart e che io la posso totalmente comandare da remoto ovviamente purché sia collegata ad una rete wifi quindi procediamo iniziamo col pannellino delle porte usb le porte usb sono sei in totale di cui due normali usb a da 12 watt luna 2 usb a in ricarica veloce da 18 watt luna e 2 usb c da 100 watt luna per accendere questo pannellino semplicemente premo questo tasto e così acceso prendo ad esempio il mio telefono lo attacco si sta caricando e qui o il valore di output mi viene segnato qua però non è finita io posso attaccare anche qualcos'altro infatti devo caricare le batterie della gopro e adesso andrò ad attaccarle qui adesso sta assorbendo 18 watt da quest'altro lato invece abbiamo tutto quello che riguarda la 220 e l'input la ricarica della batteria quindi anche qui come funziona molto semplice ogni pannello ha il suo tasto di accensione qui abbiamo quattro prese sciuco 220 a cui ho già collegato il phon ho già collegato il dremmel e funziona egregiamente quindi anche qui semplicemente vado ad attivare ha fatto il suo bip e ora sono tutte accese invece qua sotto abbiamo una presa accendisigari 12 volt e altre due prese 12 volt piccoline qui che caricano massimo 3 ampere idem per attivare questo pannello qua c'è il suo tasto di accensione ma parliamo bene della 220 perché secondo me è questa la rivoluzione perché è la prima power station in cui io riesco ad attaccare il phon e non solo potrei anche attaccare un phon più potente di quello che attualmente ho tant'è che sto pensando di comprarne uno anzi alessia appena glielo detto fa possiamo comprare un phon nuovo più potente bellissimo fighissimo sì possiamo farlo perché questa power station supporta fino a 1800 watt di potenza e 2400 watt di picco quindi io adesso potrei utilizzare comunque il phon insieme mentre sto caricando questi due dispositivi allora questo è un phon da viaggio semplice semplice che abbiamo usato negli ultimi anni e la potenza di questo phon va dai 1175 watt ai 1400 watt massimo quindi ora lo attacco poi giro la power station in modo che monitoriamo dallo schermo cosa succede accendo il pannello tink è acceso ora la giro vado è partita anche la ventola di raffreddamento qua ci sono le bocchette del raffreddamento e praticamente stavamo consumando 1170 watt quindi nemmeno al massimo quindi fantastico ragazzi davvero fantastico parliamo anche dell'input quindi di quello che abbiamo qua allora qui abbiamo l'input del solare e qui abbiamo l'input 220 allora vi dico che questa power station è incredibile perché ha dei tempi di ricarica velocissimi io l'ho caricata l'altro giorno a 220 e ci ha messo meno di un'ora perché ricarica da 0 a 80 per cento in 50 minuti e da 0 al 100 per cento in presso che 80 minuti è davvero pochissimo l'input invece in entrata dai pannelli solari è di massimo 500 watt io comunque sono così contenta di questo che ho deciso anche di comprare dei pannelli solari portatili di eco flow quelli che si aprono infine da quest'altro lato c'è un'altra chicca pazzesca questo è uno sportello dove praticamente abbiamo il connettore per poter aggiungere una batteria supplementare perché il sistema delta 2 di eco flow permette di ampliare questa power station fino a 3 kilowatt cioè questa è già da sola un kilowatt un kilowatt è di fatto un generatore solare da un kilowatt e in più possiamo aggiungere una seconda batteria da aumentando quindi la potenza 2 kilowatt e un ulteriore batteria ancora e arriviamo fino a 3 kilowatt c'è praticamente un impianto di casa ragazzi 3 kilowatt ma vorrei farvi vedere bene le funzioni che sono disponibili qua sull'applicazione di eco flow praticamente noi da qui una volta che avremo configurato la power station con il wifi se anche noi siamo fuori possiamo collegarci tramite appunto l'applicazione alla power station e comandarla da remoto se vogliamo che si accenda che si spenga dagli on timer magari abbiamo lasciato qualcosa di collegato e vogliamo scollegarlo vogliamo spegnerlo si può fare tutto dall'applicazione io posso monitorare tutto da qui anche a distanza perché se sono presente qui e non c'è una connessione wifi se sono presente con la power station posso utilizzare bluetooth ma se io invece sono fuori e la power station è collegata al wifi io posso fare tutto da remoto con l'applicazione e posso fare davvero di tutto cioè io ora sto guardando quanta potenza sta mandando ai due dispositivi che ho collegato volendo posso appunto disattivarle l'usb perché vedete qua c'è questo tastino e io posso disattivarle qui posso accendere le 12 volte e qui posso accendere la 220 sentito e si è acceso la 220 è partito anche il relè dell'inverter e ora spengo e si è spento pazzesco qui invece abbiamo tutte le funzioni dove posso personalizzare anche le impostazioni quindi qui abbiamo il time out dell'unità quindi dopo quanto si deve spegnere da sola il time out dello schermo dopo quanto si spegne lo schermo il time out anche delle le varie prese perché se io me le dimentico accese dopo un po' si spegne da sole abbiamo ovviamente la possibilità di aggiornare il firmware e poi abbiamo anche le specifiche la guida tutto qua dentro io posso configurare tutto quanto intanto vorrei farvi vedere che sono arrivata al 43 per cento di batteria e la sto usando da una settimana circa questa settimana ci ho collegato due o tre volte il computer non mi ricordo praticamente tutte le sere due cellulari poi ho collegato adesso ad esempio sto caricando a piccola power station che quasi carica ho collegato le batterie della gopro ho collegato il phone il dremel per fare dei lavoretti e e siamo ancora 43 per cento cioè è una settimana che lo sto usando diciamo per fare davvero tutto quello che mi serve giornalmente quotidianamente dentro al camper e non ho ancora finito l'autonomia della batteria quindi per questo vi dico che è davvero pazzesco e che può davvero svoltare la vita a tanti camperisti vanlifer insomma quindi davvero persone che non vogliono cimentarsi o investire troppo in un impianto elettrico del camper questo è uno strumento che permette di avere tutto a portata di mano qua trasportabile ovunque vuoi nella scatola di della power station troviamo anche ovviamente i con i vari connettori che ci servono per la ricarica allora abbiamo un connettore 12 volte per auto questo e abbiamo un connettore 220 oltre che un cavo 12 volte semplice quindi ragazzi le possibilità di utilizzo di questa power station sono davvero infinite sia nel viaggio che a casa in viaggio per me è stata la svolta perché ora non ho più paura di diciamo rimanere senza corrente perché come sapete ci è capitato di avere un guasto all'inverter e quindi rimanere totalmente senza 220 nel camper oltretutto il nostro inverter ha un collegamento particolare nel senso che quando abbiamo dovuto mandarlo in assistenza tutta la 220 anche collegandoci alla colonnina passa attraverso l'inverter e di conseguenza noi dentro al camper anche se ci collegavamo la colonnina non potevamo avere la corrente all'interno delle nostre prese mentre se avessi avuto una cosa di questo tipo avrei potuto fare tutto dall'utilizzo del phon usare i vari elettrodomestici da cucina perché potenzialmente qui oltretutto infatti un'altra cosa che ho pensato ad alessia a questa si può collegare anche una macchinetta del caffè si può collegare anche un forno microonde volendo non lo avremo mai dentro al camper ma potenzialmente si può mi immagino in un utilizzo casalingo in caso di blackout con questa puoi far tutto puoi continuare ad alimentare il frigorifero puoi continuare ad alimentare tranquillamente la tv puoi usare il forno a microonde puoi usare la macchinetta del caffè il computer tutto quello che serve e in un utilizzo di viaggio è secondo me un backup fondamentale e non solo perché io di fatto ora non lo sto usando come backup ora lo sto usando come primaria fonte di energia per caricare tutti i miei dispositivi quindi il computer ormai lo carico solo qui i miei telefoni eppure li carico solo qui ho iniziato ad utilizzarci anche il phon questo perché perché quando si viaggia se si è libera come facciamo noi non si sa mai a che cosa si va incontro ad esempio ci sono ci sono comunque sempre degli degli inconvenienti l'anno scorso è stato il problema dell'inverter quest'anno abbiamo un problema con uno dei pannelli solari cioè abbiamo un pannello solare più grande che non funziona quindi abbiamo 300 watt in meno di ricarica sul nostro impianto oppure potrebbe venire una settimana di pioggia e quindi a un certo punto l'impianto del camper non ce la fa più e un dispositivo come questo allungherebbe l'autonomia diciamo quindi gli utilizzi sono davvero tanti anche come dicevo dal punto di vista di chi magari vuole camperizzare da zero un van oppure a chi si avvicina magari ad un van un po vintage usato come il nostro e non vuole investire tanti soldi o energie perché magari è complesso nel fare un nuovo impianto elettrico da zero in batterie litio che sono costosissime inverter e tutto il resto si può investire in qualcosa di questo tipo che sopperisce a tutto quindi se l'avessi avuta prima sinceramente avrei ripensato diversamente tante cose in casa la cosa bella di questo di questa power station è che può essere utilizzata per un impianto fotovoltaico da balcone quindi per chi è attento al risparmio per chi soprattutto è attento all'ambiente come noi sappia che si può utilizzare anche in questo modo corredato da tutti i suoi pannelli solari allora ragazzi penso di avervi detto tutto su questa power station eco flow delta 2 vi ho dato tutte le informazioni tecniche se avete qualche dubbio vi lascio il link in descrizione con tutti i dettagli delle infotecniche magari mi è sfuggito qualcosa comunque sul sito è tutto scritto in modo molto molto dettagliato ve lo metto in descrizione e in più vi dico anche che sempre in descrizione vi metto un link in cui potete acquistarlo con un codice sconto nostro mentre se invece riuscite ad acquistarlo entro l'11 di ottobre sappiate che ci sono degli sconti particolari che eco flow sta facendo quindi degli sconti lampo e vi metto anche questo link in descrizione degli sconti lampo che vale però solo entro l'11 di ottobre quindi entro domani sera ok quindi ragazzi io non ho davvero altro da aggiungere nei prossimi giorni vedrete altri video con il nostro utilizzo quotidiano della delta 2 perché davvero come vi ho detto la stiamo utilizzando per tutto e ve lo mostrerò appunto nei video che usciranno prossimamente sul nostro canale intanto vi saluto spero che questa recensione vi sia stata utile e soprattutto spero che vi abbia aperto la mente sul futuro dell'energia in camper e in generale in viaggio ci tengo a ripeterlo ribadirlo lo sapete quando recensisco qualcosa lo faccio in modo totalmente sincero e io sono davvero stupita da questa power station perché mi ha svoltato davvero l'utilizzo dell'energia in camper e lo ripeto ancora se l'avessi avuta prima probabilmente tante cose tante modifiche diciamo dell'impianto elettrico all'interno del camper le avrei pensate diversamente sono molto contenta perché questa fonte di energia sono sicura che sarà un salvavita per il futuro se dovessero esserci di nuovo dei guasti delle delle problematiche al nostro impianto come appunto è già successo e quindi ragazzi se potete approfittate dell'offerta entro l'11 di ottobre altrimenti comunque sappiate che ci sarà un codice sconto dedicato detto questo io vi saluto spero che vi sia stata utile l'ho già detto e ci vediamo nei prossimi video che usciranno i prossimi giorni perché ora che ho finito finalmente la stagione lavorativa sto un po recuperando il ritmo ciao ciao